buongiorno bentrovati buon martedì 11 aprile martedì in albis siamo nella settimana delle bianche vesti la settimana dell'ottava di pasqua che la liturgia ci invita a vivere come un unico giorno illuminato dallo splendore della pasqua di cristo signore dallo splendore della sua gloriosa risurrezione ecco il vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano lettura del vangelo secondo matteo in quel tempo abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli ed ecco gesù venne loro incontro e disse salute a voi ed esse si avvicinarono gli abbracciarono i piedi e lo adorarono allora gesù disse loro non temete andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in galilea la mi vedranno mentre esserano in cammino ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto questi allora si riunirono con gli anziani dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo dite così i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo e se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevuto così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi parola del signore gesù risorto incontra anzitutto le donne le donne che erano venute a cercarlo morto nel sepolcro che hanno trovato il sepolcro vuoto lo incontrano e lui per primo da a loro la missione andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in galilea la mi vedranno gesù risorto infatti apparirà più e più volte ai suoi discepoli per confermarli nella fede tutti infatti devono essere certi della sua gloriosa risurrezione per essere suoi testimoni davanti alla alla splendida risurrezione davanti all'interrogativo posto dalla tomba vuota e anche delle apparizioni angeliche che ha sconvolto i soldati ecco che la menzogna è l'arma che viene utilizzata dai sadducei dai sommi sacerdoti per chiudere la bocca all'annuncio pasquale dite che i suoi discepoli lo hanno rubato ma la menzogna non potrà mai fermare il cristo perché cristo è verità e allora lasciamoci ancora oggi stupire non solo dall'infuriare della persecuzione contro cristo dall'odio contro cristo non ci scandalizzi non è niente di è da duemila anni che i viventi fanno la guerra a un morto secondo loro ma che in realtà è ben più vivo di loro ed il vivente gesù risorto vince e vincerà quindi non abbiamo paura stiamo con il signore e anche noi vinceremo preghiamo gli uni per gli altri preghiamo per i cristiani perseguitati chiediamo la grazia di essere veramente coraggiosi testimoni del signore risorto buona giornata sia lodato gesù cristo grazie a tutti